www.telenordest.it Buongiorno da Padova, siamo all'interno della sede del Comitato della Croce Rossa di Padova con il Presidente Gian Pietro Rupolo che ringraziamo per la sua disponibilità. Emergenza migranti, Croce Rossa in prima linea a fine da subito come supporto logistico. A Padova si stanno accogliendo in questo momento sicuramente oltre un centinaia di persone. Voi effettivamente avete dato un supporto logistico nella predisposizione dei letti, a che punto siamo in questo momento? Beh al momento attuale mentre parliamo noi abbiamo su richiesta della Prefettura dispiegato 50 letti temporanei ovviamente alla San Benedetto da Nocia in via Cave, 35 letti sono alla Dorighello, in via Dorighello e 42 letti sono stati invece posti a Feriole. Parliamo quindi di due palestre delle scuole e poi di una palestra comunale. Certo, sì due palestre delle scuole e una palestra comunale che è quella di Feriole, Selvazzano. Noi al momento ci è stato detto da questo punto di vista quello squisitamente logistico se potevamo contribuire con un'altra ventina di letti, li abbiamo, ma non abbiamo avuto informazioni dove dobbiamo metterli. Sì, sappiamo che deve arrivare un altro arrivo di migranti in città, ma anche su questo non abbiamo informazioni al momento. Ecco, da un punto di vista della gestione sanitaria che voi state ovviamente fornendo come supporto, qual è la situazione e anche insomma che tipo di sensazione, che tipo di ritorni ha dagli operatori che comunque stanno lavorando all'interno di queste strutture, operatori della Croce Rossa? Beh, noi affianchiamo gli operatori delle cooperative soprattutto nel momento della distribuzione dei pasti. Dal punto di vista sanitario noi facciamo delle visite nelle palestre calendarizzate, secondo un calendario concordato con le cooperative e con le prefetture. La scorsa settimana l'abbiamo fatto per due volte e poi forniamo una reperibilità nell'ambulatorio che è alle mie spalle, che è l'ambulatorio del comitato di Padova, dove c'è un team reperibile a casa se ci sono bisogni in modo da non intasare eventualmente il pronto soccorso. Al momento attuale la situazione sanitaria è, posso veramente essere tranquillizzante, assolutamente sotto controllo. Non abbiamo trovato nessuno positivo al Covid, per esempio. Abbiamo ricoverato soltanto due giovani, ma per problemi internistici oggettivi. Ci siamo fatti carico di una quantità, direi tutto sommato abbastanza limitata, di problematiche minori, insomma piccole ferite, problemi agli arti e altre cose. Quindi dal punto di vista sanitario la situazione è controllata e assolutamente non allarmante. Anche da un punto di vista proprio della gestione delle persone che sono all'interno, a dei ritorni dagli operatori che comunque quotidianamente dialogano con queste persone? A quello che risulta a me problematiche principali ovviamente non ce ne sono. C'è la problematica di qualche allontanamento, ma questa va messa nel conto. Ecco, prima di iniziare questa intervista lei ci raccontava ovviamente che c'è il contatto diretto con Lampedusa, con il comitato che sta assistendo, che lavora nell'isola. Pare insomma che gli sbarchi siano diminuiti in questo momento. Allora, a Lampedusa c'è un comitato certamente, ma la gestione dell'hotspot è fatta dal comitato nazionale, che vi impiega 120 operatori, 50 dipendenti e 70 volontari che si turnano. Ci sono sempre dei volontari di Padova presenti, ma da dichiarazioni, da informazioni che ho nella giornata di ieri, la pressione in questi giorni sembrerebbe un po' in diminuzione. Il motivo verosimilmente sarà di carattere meteorologico, ma in ogni caso con questo tipo di criticità è anche questa una buona notizia. Un'ultima domanda, ci sono nuovi arrivi a Padova, in ogni caso voi siete pronti? Noi siamo pronti per nuovi arrivi, se ci sarà chiesto di renderci disponibili anche nel momento dell'accoglienza, noi abbiamo un team, che è quello del settore emergenze, che si è attivato il 15 di agosto e che è tuttora in allerta. Benissimo, allora noi davvero ringraziamo Gian Pietro Rupolo, ricordo presidente della Croce Rossa di Padova, la situazione degli arrivi, ovviamente noi come redazione continueremo a seguirle. Ringrazio per la collaborazione tecnica, il collega Francesco Ratai da Padova, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Chiara Gaiani, al suo ospite per questo punto sull'emergenza migranti. La cronaca ora ci porta all'oreggia, rapina a mano armata in una sala slot, sentite. In pieno giorno armato di coltello con il volto coperto da un casco integrale da motociclista, eccole le immagini del rapinatore solitario che ha svaliggiato la sala slot Atlantic City di Loreggia in Via del Santo. Attimi di tensione ieri mattina, quando l'uomo è entrato in azione, prima ha minacciato con un coltello la proprietaria, una cittadina cinese. In suo aiuto è arrivato il marito, che ha gettato una mazzetta di denaro a terra. Il rapinatore ha quindi raccolto i soldi, circa mille euro, ed è fuggito in moto, senza targa, lungo la strada statale del Santo. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale per cercare elementi che possano portare all'identificazione del rapinatore. Nel frattempo le pattuglie hanno monitorato le strade dell'Alta Padovana. Torniamo a Padova, nuova aggressione agli agenti della polizia penitenziaria nel carcere Due Palazzi. Aggrediti da un detenuto marocchino di 29 anni che durante l'ora d'aria ha chiesto di rientrare al piano perché non voleva più giocare a calcio. Alla richiesta dell'agente di aspettare 5 minuti, il detenuto ha reagito colpendolo a calce e pugni lui e un collega fino all'arrivo della sorveglianza. Dopo gli episodi di lunedì, ancora violenza nella casa circondariale del carcere Due Palazzi di Padova con due agenti costretti a ricorrere per l'ennesima volta alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate a denunciarlo le sigle sindacali della polizia penitenziaria. Giovanni Vonna, segretario triveneto del Sappe, punta il dito sulla gestione dei detenuti da parte del provveditorato di Padova. Quello che è accaduto è di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l'ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Antonio Landino, Cis Padova e Rovigo, ricorda anche i continui rinvenimenti di telefoni cellulari sempre al Due Palazzi. Segno, osserva, che la pena introdotta a ottobre 2020 non è sufficiente ad arginare questo fenomeno. Sono tante le notizie di cronaca di questa mattina, tragedia sfiorata da Bonoterme dove un uomo di 75 anni è stato arrestato. Sentite perché. Solo l'immediato intervento dei carabinieri di Abano e successivamente dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo, appiccato da un 75enne a un appartamento di sua proprietà sito nel comune termale, interessasse l'intero caseggiato. Tutto era partito pochi minuti prima. L'uomo, originario della Macedonia, pensionato, incensurato, era arrivato sul posto e aveva acceso un violento litigio con l'affittuario, tanto da cospargere con una tannica di benzina alla porta della casa per poi appiccare il fuoco. Allertati dai vicini che avevano chiesto aiuto al 112, i carabinieri hanno dapprima spento le fiamme con un estintore dopo aver sequestrato l'accendino e le tanniche vuote, arrestato il 75enne che adesso dovrà rispondere di tentato incendio aggravato. Cambiamo decisamente argomento perché continua il botta e risposta da maggioranza, è una posizione sulla curva sud dell'Eugane. Oggi l'assessore Bonavina conferma che i lavori riprenderanno. La situazione è sicuramente difficile e questo è determinato dalla mancata collaborazione da parte della ditta che sicuramente non ci sta dando una mano da questo punto di vista e quindi stiamo, i nostri tecnici sono a lavoro ormai da 4 mesi per trovare la soluzione migliore, per iniziare prima possibile e soprattutto con delle certezze per poter arrivare alla conclusione dei lavori che per noi sono importantissimi. Dopo il sindaco Sergio Giordani anche l'assessore Diego Bonavina parla dei lavori della nuova curva dello stadio Uganeo. Al momento però non è possibile fissare una data di inizio lavori e non è possibile nemmeno vederne la fine. La società appaltatrice coinvolta nell'inchiesta non sta fornendo le carte che permetterebbero di sbloccare i lavori. A Palazzo Moroni si cerca però una soluzione. Le opposizioni attaccano e sottolineano come il progetto della nuova curva sia fallimentare e questo stop dovrebbe far ripensare all'altro progetto, quello dello stadio plebiscito. Le opposizioni sono fatte per dire quello che ritengono. Io dico sempre che lo stadio Uganeo è lì da 30 anni, ci lamentiamo tutti dello stadio Uganeo, si sono lamentati tutti quanti ma in 30 anni non è stato fatto nulla, nulla e nessuno ha mai pensato o mai riuscito a fare qualcosa. Noi ci abbiamo pensato, abbiamo iniziato, ci abbiamo provato, qualcuno si è messo di traverso ma non ci preoccupiamo, quella struttura verrà portata a conclusione. Bonavina sottolinea anche che il rifacimento della curva porta con sé anche la realizzazione di due palazzetti pensati per altri sport e che attendono di essere completati. La stessa importanza che si dà alla curva è la stessa importanza che si danno i palazzetti perché i palazzetti ospiteranno tantissime manifestazioni, tantissime competizioni, tantissime associazioni, non vediamo l'ora veramente. Dallo stadio un altro tema caldo in città, ovvero quello dell'emergenza casa e alloggio per gli studenti universitari, ebbene il comune dà il via ai lavori per lo studentato di via Belzoni. 4886 posti letto è il ministero a certificare la cronica carenza di alloggi per gli studenti universitari che sempre più scelgono l'Ateneo Padovano per la loro formazione. A fronte di un aumento delle iscrizioni di circa il 20% è la casa uno tra i principali problemi da affrontare. Diversi progetti al via in città, in particolare quelli relativi alla nascita di studentati privati. In via Belzoni sono iniziati i lavori per la realizzazione di uno stabile di quasi 14.000 metri quadrati con 474 posti letto, in stanze singole o doppie dotate di servizi in ogni piano, spazi comuni, uno sky bar, una terrazza. I lavori si concluderanno nel marzo 2025. Un altro studentato prenderà forma l'ex IFIP accanto alla Chiesa della Pace. Qui i posti letto saranno 452. L'amministrazione comunale sta dialogando con i privati su altri sette progetti per realizzare altri 3.500 posti letto. L'assessore all'edilizia privata Antonio Bressa commenta Stiamo lavorando con l'ESU per definire le modalità con cui vincolare dove è possibile gli investitori accedere una quota delle stanze a canone agevolato o comunque secondo i criteri e le graduatorie ESU. L'aumento dell'offerta insieme a questi accorgimenti ci aiuta a dare delle prime risposte all'emergenza abitativa degli studenti in città. Parliamo ora di sanità. In primo piano la carenza di medici legata alle liste di attesa. Ne ha parlato il presidente Luca Zaia. Sentite. Se non hai i medici che fanno le visite, le visite non le fai mai. 3.500 medici, se li mettessimo idealmente su 3.500 ambulatori, avremo con 10 visite al giorno a testa, che non sono tante, 35.000 visite al giorno. Voi capite che in due giorni azzeriamo anche la categoria D e andremo ad aggredire le altre categorie. 3.500 medici che mancano all'appello in Veneto dei 50.000 a livello nazionale e che in questo momento non sono nemmeno a disposizione del sistema sanitario. Colpa, dice il presidente Zaia, di una cattiva programmazione universitaria degli anni passati. Ora si sta cercando di recuperare a livello nazionale con nuove norme. Ma questi camici bianchi sarebbero fondamentali per dare una risposta concreta al tema liste d'attesa. In Regione, dal post pandemia, si continua a lavorare per recuperare le 500.000 prestazioni in evase causa Covid. A giugno avevamo 100.000 persone in attesa, quindi non con un appuntamento, per la priorità 30 giorni. Oggi stiamo andando sotto le 40.000, contiamo di azzerarlo. Siamo già azzerati per le 48 ore, per i 10 giorni, adesso stiamo aggredendo il target dei 30 giorni. A questo si aggiunge un altro dato particolarmente significativo. Quest'anno l'incremento di richiesta di prestazioni è del 20%. Questo dà una dimensione anche di quanto, diciamo, attenzione ci sia nella cura dei Veneti. E la Regione Veneto ha deciso di dedicare una sezione del suo sito alla relazione sociosanitaria 2023. Abbiamo voluto una grande operazione di trasparenza. I cittadini, i media, le istituzioni, spiega il governatore, potranno accedere in maniera immediata ai numeri delle prestazioni, all'analisi statistica sulle liste d'attesa, al volume di lavoro svolto, a tutti i servizi attivi negli ospedali e sul territorio. Chiunque potrà avere un quadro preciso su tutti i numeri della Sanità Veneta, un'operazione che spero, conclude Zaia, possa contribuire a diminuire il propagarsi di fake news e imprecisioni che spesso si sentono, talvolta, a beneficio di chi vorrebbe strumentalizzare tematiche complesse come l'offerta sociosanitaria del Veneto. Apriamo ora la pagina politica. Forza Italia Padova vede il ritorno di Massimiliano Barison, ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia, già sindaco e assessore provinciale. È un ritorno a casa il suo? Sì, questa è la casa dei moderati, è un ambiente dove si costruiscono proposte per il futuro, dove ci si confronta sulle idee, sui progetti e soprattutto per riuscire a dare al territorio, agli enti locali, alla provincia, alla regione, un governo moderato di cui la gente ha veramente bisogno. È stato fondamentale, Flavio Tosi, per il suo rientro? Sicuramente la scintilla che ha fatto scattare in me la voglia di ritornare in politica è stato Flavio Tosi, che ho conosciuto e ho apprezzato perché ritengo essere una persona capace, di grande esperienza e soprattutto con una visione verso il futuro come pochi. Cosa non la convinceva più in Fratelli d'Italia? Ma quello non era il mio ambiente, non è stato per me semplice inserirmi in un mondo che non mi apparteneva, quindi queste difficoltà mi hanno fatto ripensare e alla fine è giusto che ritorni in un partito come Forza Italia. Cambiamo ora decisamente argomento e scopriamo insieme un progetto promosso dall'associazione Una Meglior Vita Possibile. A pochi giorni dall'inizio delle scuole il comune di Vigonza alleggerisce i costi a carico delle famiglie contenendo il costo del buono pasto. In base all'adeguamento all'indice Istat ogni bambino avrebbe dovuto pagare 5,73 euro a pasto. Grazie all'applicazione di alcuni risparmi derivati da economie e una costruzione della gara d'appalto, ha spiegato il vice sindaco Filippo Pastore, fino al 31 dicembre il costo sarà di 5,40 euro con un contenimento pari al 47% dell'aumento. Confermate tutte le agevolazioni sulla base del reddito ISEE in caso di iscrizione di più figli e la riduzione del 100% per i portatori di handicap. Ovviamente questo è il servizio sui buoni pasto, ora guardiamo insieme appunto il progetto promosso dall'associazione La Meglior Vita Possibile. Forza, dormi. Così dovrebbe funzionare, no? Dormi. Allora chiamo l'ambulanza. Pronto, è il centro per le cure palliative? Così non può continuare a respirare. In un mondo in cui condividiamo tutto in diretta social, la telecamera del telefonino accende i riflettori sulle cure palliative pediatriche, un mondo che non si conosce, di cui si parla poco, proprio perché è difficile immaginare cure palliative per bambini, ma è una realtà che coinvolge molte famiglie, seguite in Veneto dall'ospice pediatrico di Padova. Diretta è il cortometraggio diretto da Paolo Boraccetti per l'associazione Miglior Vita Possibile, che sarà presentato alla mostra del cinema a Lido. L'idea era quella di provare a raccontare in un modo un po' diverso quello che sono magari le vite delle famiglie dei ragazzi, dei bambini e dei loro genitori che convivono con queste malattie rare oppure insomma in generale con patologie non guaribili, ma provare a farle in un modo diverso, diciamo sottolineando anche un po' il carattere, la tenacia, diciamo il modo di non rassegnarsi a una condizione, ma di imparare a vivere, come dice la stessa associazione, la miglior vita possibile. La presentazione a Venezia per l'ospice pediatrico rappresenta dunque l'opportunità di far conoscere questa realtà. Abbiamo bisogno che se ne parli e questa occasione è un'opportunità enorme, certo perché è un setting, è un contesto del tutto particolare, ma penso sia veramente la prima volta che le cure palliative pediatriche varcano la soglia della mostra del cinema. È un glossario, è un nome molto difficile da sopportare, quella di cura palliativa pediatrica. Riuscire a portarla lì secondo me sarà un aiuto importantissimo per chiudere e bloccare questo vuoto, quello di non riuscire a parlarne, quello di cercare di evitare il problema. Apriamo ora la pagina dello sport, torna ad allenarsi la pallavolo, tutto è pronto per la nuova stagione. Primo giorno di allenamento per la pallavolo Padova che inizia la preparazione in vista del campionato, presenti quasi tutti i giocatori, ad eccezione degli stranieri impegnati con le proprie nazionali negli europei e qualificazioni olimpiche. Coach Cuttini ha trovato molti elementi nuovi e un rinnovato entusiasmo. C'è molto entusiasmo, un po' è l'ambiente, diciamo che piace a me, piace alla società, creare questo tipo di entusiasmo. Un po' è anche l'età, l'età media della squadra, sono ragazzi giovani, sono ragazzi di comunità media, molto giovane, ogni anno di più, ogni anno io dico sempre ai ragazzi, io sono sempre più vecchio e loro hanno sempre la stessa età. Un campionato difficile, l'obiettivo per la squadra di volley Padovano resta la salvezza. Sicuramente noi non portiamo lo scudetto, però noi rimanere ogni anno in campionato per noi è un obiettivo importante che ci dà molto molto orgoglio. Abbiamo raggiunto tutti gli nostri obiettivi, abbiamo dovuto modificare in corso alcune situazioni per degli infortuni, ma questo fa parte del gioco. Per il resto è una rosa molto larga, con molti giocatori che possono entrare in campo e dare un buon contributo. Cerchiamo di sfruttare, come l'anno scorso, le condizioni in forma di ogni singolo atleta per portare punti alla squadra. Le aspettative però sono buone e per la squadra anche un nuovo capitano. È un onore e anche questo credo sia una cosa importante non solo per me, ma spero di dare tutto il contributo anche ai ragazzi e a tutta la squadra. Il comune di Padova nel frattempo ha sistemato l'illuminazione della Chione Arena e grazie ai fondi del PNRR verranno sistemati anche gli spogliatoi. Questo era l'ultimo servizio, da Padova è davvero tutto. Grazie per averci seguito e un buon sabato a tutti voi. Grazie a tutti.